secondo secondo video quest'oggi e quest'oggi abbiamo cambiato anche location come potete vedere siamo in salotto siamo in salotto e qua ci stiamo divertendo come dei pazzi siamo io 14 luci e una telecamera cosa vuoi di più dalla vita al posto che mostrarvi altre stampe 3d quest'oggi però un quadro anzi bene tre quadri e poi verranno uniti scomposti disassemblati no verranno poi esposti a cazzo non aspettatevi monè van gogh sono io che faccio un quadro lo monto in maniera simpatica e divertente cioè molto il video e non ancora montato e adesso ve la faccio vedere adesso adesso ve la faccio vedere adesso 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 iscriviti al canale e torniamo a noi torniamo a noi piaciuto il video piaciuto il video e mettete lo sto like no ma grazie non l'avete visto il quadro finito è il quadro finito non lo vedrete mai o meglio non lo vedrete mai nella maniera corretta quindi adesso vi farò vedere il quadro scomposto e buon vediamo se qualcuno indovina il nome di questo di chi io ritratto sicuramente lo conoscerete se non capite chi è pace